Ciao, il gruppo Faini ti dà il benvenuto a Vignate, una città dell'Interland milanese a 11 chilometri da Milano, a due passi dal passante ferroviario per Milano. La nuova palazzina sorge al posto di una importante corte storica di Vignate. Per la costruzione di questa palazzina è stato adottato l'utilizzo delle più moderne soluzioni tecnologiche dell'edilizia in ambito di risparmio energetico. I consumi sono ridotti del 50% rispetto agli impianti tradizionali. Vi è un isolamento a cappotto termico, caldaie a condensazione, pannelli solari e riscaldamento a pavimento. Vieni a visitare questi appartamenti a Vignate, li troverai ai prezzi migliori del mercato. Sono state realizzate soluzioni abitative con tagli che assecondano le richieste attuali del mercato immobiliare. Mono B3 quadri locali. A due passi dal passante ferroviario per Milano, servito da bus e linee suburbane veloci S5 e S6, a 12 minuti dall'aeroporto di Linate. I professionisti di Faini Case sono a tua disposizione per ulteriori dettagli e per eventuali visite su appuntamento durante tutta la settimana. Vieni a trovarci sul sito www.faini.it o scrivi a info-faini.it. Ciao!